E' pronta a sbocciare la primavera, la primavera è già sbocciata, noi parliamo della primavera alessandrina, una serie di appuntamenti che iniziano proprio questa sera con il concerto di Cristina Donà al Teatro San Francesco di Alessandria, proseguiranno poi con altri appuntamenti, domani ci sarà anche la bandarotta fraudolenta che girerà per il centro alessandrino con un gruppo appunto conosciuto nel territorio alessandrino, sono conosciuti anche fuori dal territorio alessandrino e speriamo che si facciano conoscere sempre di più, i Thomas che sono invece il gruppo che suonerà domenica sera in Piazza della Libertà ad Alessandria, due dei componenti Enrico e Massimiliano sono qua negli studi Radio Col News, buongiorno, ciao, quelli belli hai dimenticato di dire, i due componenti belli, presentabili, ecco la voce bellissima che avete sentito è quella di Giorgio Zito, qui cedo la parola. Ciao, buon pomeriggio, i Thomas sono una band di Acqui, il loro ultimo album, Fin, lo presentano appunto in questa splendida occasione, ma un disco di cui si sta parlando già tanto, i Thomas sono tra l'altro una delle band al momento prescelte per suonare al mitico concerto del primo maggio a Roma e volevo chiedervi proprio partendo da qui cosa avete pensato quando l'avete saputo? Beh, siamo molto contenti, ci piacerebbe ovviamente andarci, siamo una band che si diverte molto dal vivo e quindi quella lì sarebbe una situazione live gigantesca in cui proporre le nostre cose sarebbe bellissimo, infatti speriamo ancora nei voti dell'ultimo giorno che oggi, votate, votate Thomas! Ecco, come funziona? Si va su Facebook con il proprio profilo, si va sulla pagina del primo maggio e da lì si cercano i Thomas e un like sulla loro pagina sotto la scritta vota qui. Si vede al momento com'è la situazione? Eravamo intorno agli 850 voti. Ottimo risultato. Si vedono anche i risultati degli altri? Si. Si vedono e ci rattristano. Ecco, lì volevo arrivare. Come siete messi? Siamo messi come un gruppo che non fa musica incredibilmente pop. Cioè, quanti dobbiamo scavalcare? Un casino, però c'è questa cosa dell'algoritmo cosmico per il quale un pochino della votazione andrà a una giuria di qualità e noi speriamo nella giuria di qualità. Cioè, se sembra, pare che non sia poi così determinante il numero di voti raccattati. Ah, ok. O comunque andrà a interagire con un altro algoritmo che... Ci piace il termine algoritmo, senza saperne il significato. C'è un algoritmo. Tra l'altro è interessante sapere che ci sono tre band di Acquiterme che sono uscite ultimamente con un disco molto bello e tutte e tre sono state selezionate. A quanto pare c'è qualcosa di particolare ad Acquiterme, una città così piccola che riesce a produrre così tanta buona musica. Veramente, chi è che lo scrisse anni e anni fa? Perché è una cosa che è una ventina d'anni che si dice. È una ventina d'anni che torna e torna e torna questa cosa. Però effettivamente la prima cosa che ho pensato quando ho letto del nostro partecipare al concorso è stato effettivamente quello. Tre gruppi su 120 partendo da una scrematura iniziale di 700 e qualcosa se non sbaglio. Su, per 2 o 3 mila iscrizioni. Sì, esatto, esatto. Quindi comunque un sacco di gente nei 120 tra gruppi di Acquiterme. Bello. Abbiamo capito che sono una band sicuramente molto d'impatto, molto rock anche se hanno un'anima nera. Dicevate che le vostre influenze vengono dal funk, dal soul. Tanto, sì, parecchio. In realtà le nostre influenze vengono un po' dappertutto. Che è da un lato il vantaggio, da un lato il problema dei Thomas. Il fatto che non abbiamo un focus su un genere musicale specifico, ma abbiamo un sacco di ascolti che vanno, sì, dal funk al soul, da Marvin Gaye a Sly and the Family e quant'altro, però anche alle cose più bianche possibili. Ci piacciono molto gli inglesi, ci piacciono i Pink Floyd, ci piacciono i Genesis, ci piacciono Crosby, Stil, Nash e Young, ci piacciono anche un sacco di Americanacci bianchi. Abbiamo una miscelata. Ci piace Zappa, forse Zappa... È quello che forse si sente di più. Sì, sì, sì. In questo disco c'è abbastanza l'influenza. C'è anche la stranezza che abbiamo un gap generazionale abbastanza vasto, nel senso che abbiamo Niccolò Gallo, ad esempio, al basso, che è giovane, si può considerare assolutamente giovane, essendo ancora nei venti, ampiamente nei venti. Per poi arrivare... Deato Luca. Per poi arrivare ad esempio al sottoscritto che invece abbiamo già schioccato i quaranta. Comunque ci sono questi vent'anni che separano molto gli ascolti. Sì, anche nelle influenze. L'unico brano dal titolo in italiano nel disco. Era un po' lì il gioco. E sì, ci è piaciuto moltissimo collaborare con loro. A progetto di italiano, voi cantate in inglese, presumo sia il metodo più facile per raccopiare dei testi a questo tipo di musico, oppure una scelta particolare? Non è una scelta consapevole, è proprio solo... Deriva dagli ascolti. Abbiamo sì alcuni ascolti della musica italiana, nel mio caso ad esempio Dalla, quello di Enrico Finardi e quant'altro, però la maggioranza dei nostri ascolti è sempre stata in lingua inglese, quindi distinto ci è venuto da produrre in lingua inglese. È una cosa molto legata al suono che produce quella lingua, che si accosta, direi, nel migliore dei modi con quello che è la nostra musica. ma è una questione anche un po' più legata alla sonorità che genera l'inglese. È una musica sicuramente molto di impatto, come dicevamo, ma anche molto ballabile, sicuramente molto divertente ad ascoltare dal vivo. Non a caso voi sarete in questa festa di primavera, ma non solo, vedo che siete già stati selezionati, scelti per altre feste in giro in provincia, per esempio al primo maggio suonerete a Novi Ligure. Come il primo maggio a Novi Ligure? Scusate, dovete andare a Roma. Bisogna avere un piano B. Adesso mettiamo il caso che vi prendono a Roma. A Novi chi ci va? A Novi ci mandiamo i Samantha. Vabbè, vabbè. Capiranno. Capiranno, sì, esatto. C'è la festa di inizio d'estate, anche qui sarete ad Acquiterme, a Visone. L'ambito delle feste, i concerti all'aperto è una simposta situazione. Sì, nel senso che, come dicevi tu, appunto c'è tanto di ballabile, un po' anche in base alla situazione in cui ci troviamo, però in situazioni dal vivo come quelle tendiamo ad avere un repertorio molto ballabile e quindi funziona abbastanza bene, ecco. Il pubblico risponde bene, generalmente. So che state cercando date live, avete già alcuni appuntamenti, volevo chiedervi, visto che siete una band della zona, qual è un problema che trovate a suonare dal vivo, soprattutto nella nostra zona, in giro per l'Italia, ma soprattutto nella nostra zona? Eh, guarda, non so dirti quale sia la causa. C'è stato un breve momento storico, quello della morte della musica venduta, no? Quello quando non si compravano più i dischi, dove si diceva, beh, però c'è un grandissimo ambito live. Il nuovo mondo sarà quello dove tu vai, la gente ti viene a sentire del vivo. E non è tanto vero, è morta in fretta quella cosa. Nel senso che ci sono tantissimi, tantissimissimissimi gruppi e musicisti adesso, c'è un'offerta estrema da quel punto di vista. E quindi si è creato un pochettino una situazione dove i locali hanno potenzialmente tutti una programmazione di due anni, con piano BI e quant'altro, come nel nostro caso per novi. Di conseguenza effettivamente adesso è un po' tutto nelle mani dei gestori di locali che tendono, per ragioni economiche giustamente, a preferire cover band o tribute band. Quindi insomma la situazione per chi fa musica originale è un pochino complicata, anche proprio solo per potersi proporre. Ma la nostra provincia è meglio o peggio che da altre parti? Uguale. Uguale. Uguale anche perché forse è peggio nel senso che, considerando che qui un pochino di conoscenze anche personali le abbiamo, è comunque difficile. Quindi forse anche in quel senso. Chiaramente questo è un problema che si pone nel momento in cui tu riesci, cioè sei ancora all'interno di certi range di notornità, chiamiamoli così chiaramente. Non appena si riesce a fare in qualche modo un piccolo passetto in avanti e poi la nebbia si dipana e allora tutto probabilmente, non lo so, non ho mai abitato quegli ambienti, in tanti anni che sono la situazione diventa più semplice. L'esempio che mi viene in mente è Caputo che poco tempo fa ha fatto quella sua bellissima affermazione contro le major radio. È un po' quella cosa lì però si applica a tutti i sistemi della musica effettivamente. non sei nel range, se non fai le cover di Vigabue non sei tanto nel range del nostro locale e se la tua canzone non è una di quelle sette che dobbiamo far girare oggi non girerai sulla nostra radio e quant'altro. È un po' difficile in quel senso. Allora i Thomas si potranno vedere dal vivo però, gratis, Piazza della Libertà ad Alessandria, domenica sera dalle 20, 21, dalle 20, quindi in orario tra aperitivo e cena, mettiamola così. Ascoltiamo ancora un brano che è April Fool e che è stato anche il vostro singolo di lancio di questo album ed è anche l'occasione per ringraziarvi per essere stati con noi. Grazie a voi. Un boccalupo per tutto, non solo per Roma naturalmente e vi aspettiamo presto alla prossima occasione. Grazie. Ciao a tutti.